Senza paura facendo sentire i tacchetti e pazienza se sono arrivati anche diversi cartellini gialli. Quella vista con l'Ungheria è una squadra tenace, grintosa, volenterosa, reparti sempre stretti, non si disunisce mai, paga la stanchezza. Negli ultimi 20 minuti l'Ungheria sbatte contro il muro eretto da Dante Rossi e compagni e senza segnali premonitori arriva il vantaggio sul calcio di rigore, fallo di Battistini su Salai dopo una bella combinazione con Varga, rigore trasformato da Zalai con palla da una parte e portiere dall'altra sulla punizione dal limite Filippo Fabri, molto buono il suo debutto in nazionale, allarga il braccio lo scottese Walsh, bravo e inflessibile, concede il secondo rigore, rigore giusto anche questo, cambia il rigorista non più Zalai ma Salai, Elia Benedettini si produce in volo tanto bello quanto concreto avevo più o meno intuito dove poteva calciare il rigore, però mi dispiace di non essere riuscito a parare gli altri due, un portiere comunque non sta a guardare il rigore che ha parato ma i due che non ha parato, però va bene così. La nazionale regge molto bene per 70 minuti, nonostante gli ingressi dei pezzi forti di Rossi come Calmar, quello che manca è a San Marino e la profondità, il raddoppio arriva sull'unico errore di valutazione di Benedettini che fa quel passo che lo tradisce, poi rientra in porta quando è troppo tardi e Salai firma lo 0-2. Sì mi sono sentito bene, ero tranquillo, mi sono proprio divertito, senza pressione, me la sono goduta. Non vedevo l'ora perché era un anno che guardavo la nazionale maggiore, speravo di arrivare il più presto possibile e fortunatamente è andata abbastanza bene. Sarebbe già più che sufficiente per la gara mostrata dai biancazzurri, ma nel finale prima Dante Rossi compie un prodigio togliendo dalla linea un pallone già destinato in porta, poi con troppa inruenza dovuta anche alla stanchezza, induce Walsh a concedere il terzo rigore trasformato da Nikolic al San Marino Stadium, Ungheria batte San Marino 3-0. Peccato i tre rigori perché è veramente una cosa strana, ma dobbiamo migliorare molto in quell'aspetto. Io sono molto orgoglioso dei miei compagni, speriamo fare meglio la prossima, ma abbiamo fatto credo io una bella prestazione. Peccato il risultato perché uno non vuole perdere a niente, ma purtroppo è così, adesso dobbiamo andare avanti, dobbiamo anche migliorare molto su questo aspetto, ma sono orgoglioso.